Poi la risposta della Triestina, 2-1 sul Belluno. Guardiamo la classifica, dovremo avere in collegamento telefonico Niccolò Giraldi, uno dei nostri opinionisti, amici di A Tutto Campo, che era a Rocco a vedere questa Triestina. Niccolò Giraldi, si sei? Ciao Massimo, sì, buonasera a tutti. Buonasera. La domanda sarà molto chiara, che Triestina è visto oggi anche perché mancano due settimane alla grande sfida col Mestre. Come ci sta arrivando la squadra di Andreucci? Secondo me ci sta arrivando la grande, la partita di oggi è stata piacevolissima, ho visto una Triestina che ha giocato veramente molto bene, con buonissimi fraseggi a metà campo, ho visto un Serafini veramente in splendida forma, Belluno un po' sotto tono, però ho visto un bel entusiasmo, una bella atmosfera, quindi credo che sarà una due settimane di avvicinamento importante. Chi hai visto meglio oggi come singoli? Beh, Francia davanti ha fatto veramente la differenza insieme con Serafini, loro due credo veramente su tutti. Poi ho visto anche un bel pubblico, veramente un entusiasmo molto molto presente, quindi credo che il tutto possa portare a una bellissima sfida il 4 di dicembre.